Il mio motore è a 350 di cilindrata per 120 cavalli all'epoca, 13.000 giri con l'elita sottospinta, cioè che lavora, non a vuoto, non a vuoto, prendere il mieco, se andavi fuori dall'acqua, andavi a scendere e ti sdotto i miei giri, per dire, no? Avevo un difettino, con due marmite e tre pale d'elita, facevano 900 metri per un litro, con quattro marmite, elita e quattro pale da ripresa, campo de gara, mosso, eccetera. Grazie 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 Grazie